Questa considerazione è proprio telegrafica, da parte, diciamo, la dico come ha, sul senso, il luogo che dobbiamo dedicare alla memoria. Noi siamo qui, siamo sempre in giro a ricordare le memorie dell'ultima guerra, della resistenza, eccetera, ma vogliamo che questa memoria sia attualizzata all'oggi. La memoria, noi dicevamo ai ragazzi, per dire mai più alla guerra, ma è uno slogan che non va più bene oggi, secondo me e secondo noi, perché oggi basta aprire la televisione e praticamente ci ritroviamo in una situazione drammatica di guerra. Papa Francesco aveva detto addirittura ci troviamo di fronte a frammenti di terza guerra mondiale. Allora, la memoria che vogliamo fare come comunità trentina, soprattutto andando nelle scuole con i giovani, è per un impegno oggi contro le guerre che sono in corso, contro il fanatismo, contro il razzismo che sta insanguinando tante parti del mondo.